La rete è entrata con irruenza nelle nostre vite ed è rapidamente diventata una sorta di piazza virtuale, raggiungibile stando comodamente seduti sul divano quando non addirittura da scuola o dal lavoro. Dall'analisi tecnica della rivoluzione comunicativa nel web, il libro passa a una valutazione delle potenzialità e dei rischi derivanti dall'uso e dall'abuso di internet, l'informazione alternativa, il coinvolgimento sui temi di impegno civico, ma anche lo scatenarsi di atteggiamenti da branco nei social network, il finanziamento al controllo dei portali, l'accanimento per spegnere i coraggiosi casi di informazione fuori dal coro, la censura, pronta ad abbattersi sui contenuti non allineati al sistema di potere, e ancora la manipolazione mentale in atto sin dalla più tenera età, con le trappole di videogiochi sempre più violenti o con la presenza di spot per il perfetto consumatore, sino alla dipendenza patologica da internet, una rete con luci e ombre da saper navigare con spirito critico e vigile per non restarvi intrappolati, una rete che è virtuale e che pur preziosissima non dovrebbe sostituirsi alla nostra vita reale. Grazie 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 Grazie